ciao ragazzi il nuovo video tutto tech video che ho fatto al volo oggi perché perché mi sono accorto che su amazon e ragazzi sembra prime day e invece no ci sono comunque delle ottime offerte per quanto riguarda tanti prodotti in eventi la domotica ma non perdiamo tempo andiamo a vederli insieme vi ricordo prima di tutto questo che qui sotto trovate i link per poter acquistare il prodotto noi siamo affiliati amazon a voi costerà zero a noi ci aiuterà a sostenere il canale quindi se siete interessati a qualche prodotto ci farebbe piacere se acquistate tramite il nostro link ma adesso andiamo a vedere i prodotti in offerta partiamo subito con la famiglia file stick parliamo della file stick 4k da 69 euro 99 a 33 euro 99 parliamo poi della file stick 4k max da 74 euro 99 a 42 euro 99 dopodiché abbiamo la file stick da 32 euro 99 a 27 euro 99 e per concludere il mondo della file stick abbiamo la light che il modello entry level la base da 34 euro 99 a 24 euro 99 tenete presente che stiamo parlando di un periodo dove gli sconti amazon di solito non ci sono ma in questo caso amazon ci fa queste sorprese e ci dà la possibilità di poter usufruire ed entrare nel fantastico mondo della domotica con il nostro dispositivo vocale andiamo poi sui dispositivi eco eco dot di quinta generazione da 59 euro 99 a 34 euro 99 questa è la versione senza orologio la versione invece con l'orologio passa da 69 euro 99 a 44 euro 99 abbiamo poi la novità per quanto riguarda i dispositivi amazon stiamo parlando dell'eco pop da 54 euro 99 a 24 euro 99 sicuramente prezzi da non perdere ma continuiamo eco auto di seconda generazione molto più compatto abbiamo fatto il video qui sul canale comunque trovate di tanti prodotti che sto presentando trovate qui sul canale il video quindi vi basterà scorrere all'interno abbiamo anche la playlist alexa quindi potete tranquillamente andare a vedere lì ci sono tutti i prodotti e abbiamo il famoso eco auto di seconda generazione che va da 69 euro 99 a 39 euro 99 abbiamo poi la possibilità di rendere il nostro citofono smart con che cosa con ring intercom anche di questo trovate il video da un prezzo di 129 euro 99 a 79 euro 99 eco show 5 di terza generazione più una presa smart da 79 euro 98 a 69 euro 99 oppure in bando l'abbiamo anche l'eco dot di quinta generazione con l'intercom il famoso prodotto che rende smart il vostro citofono da 189 euro 98 a 89 euro 99 questi sono i prodotti che ho selezionato per voi perché mi sembravano veramente delle ottime occasioni certo non sono i livelli di quando parte il prime day però se qualcuno di voi è un neofita vuole entrare in questo fantastico mondo della domotica low cost oppure vuole ampliare il proprio parco prodotti in casa questo è il momento giusto per poter effettuare tanti acquisti bene ragazzi vi ribadisco qui sotto trovate i link in descrizione cliccate su quei link e effettuate l'acquisto se vi interessano i prodotti e io direi che per questo video è tutto ci vediamo al prossimo ciao ciao